Questo messaggio è per te, non sei sola. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Il Signore è vicino al mio cuore spezzato. Cari fratelli in Cristo, vi saluto e benedico tutti nel nome del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. La parola di Dio per te oggi viene dal libro del Salmo 34, 18. Il Signore è vicino a coloro che hanno il cuore spezzato e salva quelli di spirito contrito. Hai iniziato questo mese con tanto dolore e problemi. Meditiamo sulle parole che seguono, su come Dio benedirà e rallegrerà i vostri cuori questo mese. Ecco, venne un lebroso e si prostrò davanti a lui, dicendo, Signore, se tu vuoi, puoi guarirmi. Allora Gesù stese la mano e lo toccò, dicendo, sono disposto a essere purificato. Immediatamente, il lebroso fu guarito e Gesù gli disse, vedi di non dirlo a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote e presenta l'offerta che Mosè ha ordinato, come testimonianza per loro. L'estraneo. Nostro amato Padre Celeste, ti ringraziamo per questo giorno benedetto. Signore, aiutaci a restare aggrappati a Dio in ogni momento, affinché possiamo acquisire le qualità di Gesù, essere più umili, più giusti e anche pazienti. Sì tu, Signore, la persona e l'eredità della nostra vita. Insegnaci a cercare il Signore finché può essere trovato, affinché possiamo ricevere il meglio da Dio, che è grande e meraviglioso nella sua natura. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Oggi, che Dio benedica a tutti coloro che stanno guardando questo video. Digita Amen nei commenti e iscriviti al canale Momento in Cristo per ricevere la benedizione oggi. Speriamo che stiate apprezzando i contenuti del nostro canale. Vorremmo ricordarvi che la produzione di questi video richiede tempo e impegno. Se state apprezzando ciò che offriamo e desiderate sostenere il nostro lavoro, saremmo immensamente grati. Contribuire al nostro canale è semplice e può essere fatto attraverso il pulsante Valaudemais. Questa piccola azione fa una grande differenza per noi e ci aiuta a continuare a offrire contenuti di qualità per voi. Vi ringraziamo anticipatamente per qualsiasi contributo possiate fare. La vostra generosità ci motiva e ci permette di continuare a condividere informazioni preziose. Grazie mille per il vostro continuo sostegno. Il team del canale.